Ciao a tutti cari amici del segno dei gemelli, eccoci qui in mia compagnia e in compagnia con il terro torosco, quindi con le previsioni per il mese di marzo 2022. Vi ricordo che queste sono energie generali quindi non possono valere per tutti, se volete potete optare per me consulti privati di cartomancia, vi lascio qui sotto tutto nei box di informazioni. Se vi va ovviamente iscrivetevi al canale, attivate le notifiche attraverso la campanella in alto a destra e se vi va ovviamente condividete questo video sui vostri social. Benissimo, incominciamo con le energie per quanto riguarda il mese di marzo 2022 cari amici gemellini, vediamo un attimino quelle energie che dovrete affrontare. Allora, abbiamo la carta del guardarsi dentro, quindi il guardarsi dentro è proprio il fatto di trovare dei momenti tutti per voi, per meditare, per rispondere alle vostre domande, agli interrogativi della vostra vita e sulla vostra vita e quindi ci sono proprio momenti molto importanti di introspezione, di riflessione in cui vorrete anche un po' stare per conto vostro. Questa cosa vi aiuterà parecchio, quindi è importante guardarsi dentro, farsi anche un po' un certo esame di coscienza, ok? Quindi è un mese di introspezione questo, è per voi. Però andiamo avanti con le altre carte. Abbiamo la carta del sole, splendida carta, una carta di apertura, una carta di consapevolezza, una carta proprio di chiarezza, farete chiarezza, porterete appunto luce, farete luce su una situazione, su una dinamica, su un rapporto, ok? Anche su una scelta che dovrete fare durante questo mese. Il sole è legato anche alla figura paterna, quindi qua potreste o ricevere dei consigli da parte di vostro padre o dalla figura, diciamo, maschile di riferimento per voi, potrebbe essere anche il compagno o il marito o il nonno o lo zio, ok? Usando un attimino capire in che situazioni vi trovate. Oppure c'è comunque un qualcosa che dovrete risolvere con questa persona, con questa figura paterna, ok? Il sole però è un'energia positiva, indica comunque allegria, spensieratezza, indica felicità, ok? Proprio il fatto di guardarsi dentro, essere maggiormente ricettivi, introspettivi, tutto questo sicuramente vi aiuterà parecchio durante questo mese di marzo, ok? Benissimo. Vediamo però anche le sibille cosa vogliono dirvi. Abbiamo la carta del serpente. Qua magari, grazie a questa introspezione, grazie alla carta del sole, potreste un attimino smascherare eventuali situazioni che vi legano a una o più persone, ma queste persone molto probabilmente sono persone infedeli, persone false, gelosi, anche sporche dal punto di vista proprio di anima e dal punto di vista mentale. Qua potreste anche, alcuni di voi possono scoprire un tradimento o degli affari un po' sporchi dal punto di vista lavorativo, commerciale ed economico. Quindi attenzione alla falsità, alle bugie e agli inganni che molto probabilmente, in molti casi, smaschererete durante questo mese, ma meglio così perché vuol dire che aprirete maggiormente gli occhi nei confronti di una o più persone, di una o più situazioni e dinamiche nelle varie stere della vostra vita, ok? Ok, vediamo di andare avanti con altre energie. Abbiamo una carta dell'imperatrice collegata all'arcangelo Gabriele. L'imperatrice è una carta di abbondanza, una carta di espansione, una carta che sicuramente è molto positiva per dare vita ai vostri sogni. È un momento proprio di arricchimento, vi arricchirete voi stessi, non solamente dal punto di vista economico, ma proprio anche dal punto di vista emotivo, dal punto di vista personale. Una volta che vi siete arricchiti voi, c'è proprio anche un arricchimento con gli altri, ok? Grazie proprio a un processo di condivisione reciproca, ok? Quindi qua potrebbe esserci proprio un senso di espansione. L'imperatrice ha anche la carta del femminile, quindi il fatto proprio di, diciamo, lavorare appunto sulla vostra femminiltà, sul vostro lato femminile. E parlo non solo delle donne, ma anche degli uomini, perché anche gli uomini hanno un loro lato più femminile. Ok? Quindi questo comunque è un altro messaggio veramente importante. Vediamo un attimino con l'oracolo dei pensieri. Allora, abbiamo la carta essere costretto a fare qualcosa anche se in fondo non lo si vuole. E' come se qualcuno durante questo mese di marzo vi costringesse a fare un qualcosa, a compiere un'azione contro la vostra volontà, contro il vostro volere. Ma voi in molti casi non riuscirete a dire di no e lo farete con, appunto, poca voglia perché è un qualcosa che è poco o per niente affine a voi. E c'è qualcuno che in alcuni casi può puntare il dito contro di voi. Quindi attenzione a questo, a queste figure, o questa figura un po' serpente. E' per questo che può essere legata la terza con la quinta carta. Ok? Ma qua è importante avere comunque i cosiddetti attributi. Non solo per smascherare i buon vis a cattivo gioco, ma anche per difendersi. E in questo caso, in alcuni di voi, alcuni di voi magari si faranno andare bene una situazione o determinati comportamenti o atteggiamenti da parte di altre persone. Però attenzione a non farvi trattare come degli zerbini. Ok? Secondo me qua è un mese di apertura, di espansione, di conoscenza, di vita sociale, di inizi, di lavori o di conoscenze, oppure matrimoni, convivenze. Ok? Sono comunque carte molto molto positive queste. Poi ci potrebbe essere una fetta di voi che potrà smascherare eventuali falsità, eventuali infedeltà nelle varie sfere della vostra vita. Ok? Vi dimostrano queste nelle vostre previsioni per marzo 2022.